Eccoci qui per la seconda audizione, vedo che anche i colleghi sono già tutti collegati e quindi io darei inizio alla seconda audizione di questa mattinata, audizione in merito al problema dei pazienti affetti da noi, ma buongiorno, buongiorno e con noi il dottor Sandro Michelini, presidente del comitato scientifico e anche se non sbaglio, e forse già la vedo, eccola, la dottoressa Valeria Giordano che è la presidente e quindi lascio buongiorno, benvenuti, grazie per essere con noi questa mattina e lascio subito a voi la parola. Inizia il dottor Michelini? Come preferite, per me è uguale. Scegliete voi, per noi indiferenti. Allora inizia la dottoressa Giordano. Va bene, va benissimo. Forco i miei occhialetti, così cerchiamo di ottimizzare il più possibile questo tempo che ci avete dedicato. Ringrazio moltissimo di questa opportunità perché insomma la situazione dei pazienti con l'ipedema è drammatica. Le specifiche della malattia le lascerei al dottore quando sarà il suo turno. Siamo una patologia del tessuto connettivo lasso e del tessuto adiposo che provoca infiammazione sistemica, il cui sintomo principale è il dolore. Poi il dottore vi dirà il resto. Siamo una categoria di malati estremamente fragile, ci esprimiamo spesso al femminile perché il 99% di noi è donna e abbiamo una serie di sintomatologie che limitano fortemente la persona che soffre della malattia e quindi abbiamo proprio difficoltà ad eseguire le attività normali e questo chiaramente ha riflessi nell'inserimento del mondo del lavoro, nella nostra capacità lavorativa e anche nelle stesse relazioni sociali. Purtroppo nessun tipo di assistenza ci viene erogata dal sistema sanitario nazionale. Anche i pazienti che versano in condizioni di grave disabilità pagano tutte le prestazioni in solvenza in Italia o all'estero. Quindi quello che porto alla vostra attenzione l'attuale quadro assistenziale sui malati italiani è veramente drammatico. Quindi quello che assiste, noi come associazione assistiamo quotidianamente a rinuncia e abbandono delle cure per mancanza di disponibilità economica quotidianamente. Quindi inoltre poi c'è il problema che la scarsa conoscenza della patologia e la confusione con altre patologie come l'obesità o il linfedema o anche condizioni di pertinenza cosmetologica tipo la cellulite eccetera provoca comunque un ritardo diagnostico che noi in questi anni di attività dell'associazione abbiamo stimato in circa una decina d'anni dall'insorgenza dei sintomi. La diagnosi poi è clinica ed è fondamentale l'esperienza del medico che effettua la valutazione. Comunque anche questa confusione diagnostica non ci aiuta perché va ad alterare i dati epidemiologici, genera percorsi terapeutici confusi, insufficienti, il paziente viene generalmente preso in carico magari per le comorbidità più frequenti ma poi non viene mai trattato per le specifiche della malattia e qualora lo fa deve pagare questi trattamenti. Quindi stiamo parlando di una patologia che non è un inestetismo, è una patologia severa, ingravescente anche quando non è associata ad altre patologie. Quindi se trascurata o in assenza di trattamento può portare comunque anche a severi quadri di disabilità, sicuramente ipomobilità, dolenzia severa, anche queste alterazioni morfologiche deturpanti che non è innegabile che siano anche notevole causa di disagio psicologico e questo avviene anche nelle stadiazioni di disordio. Quindi non esiste al momento una cura definitiva però è possibile sottoporre il paziente a questi trattamenti sintomatici per arrestare la progressione della malattia e per trattare i sintomi più invalidanti. Quindi sono diverse, noi abbiamo fatto a marzo di quest'anno come associazione una richiesta di inclusione nei livelli essenziali di assistenza e ci aspettiamo che comunque questa venga accolta prima possibile perché le nostre pazienti, i nostri pazienti se vogliamo includere quei pochi maschietti che abbiamo, non possono più attendere, siamo completamente privi di ogni forma di assistenza ed è una patologia che ormai si conosce. Se uno va su PubMed trova 362 risultati di ricerca su questa malattia, ci sono linee guida e documenti di consenso in diversi paesi del mondo, la Germania come paese pioniere l'ha inserita già nell'ICD10, quindi dando delle prestazioni comprese quelle chirurgiche con la cassa mutua tedesca. Vorremmo creare il più possibile una situazione di presa in carico immediata e lavorare sulla formazione di personale specializzato e in questo momento siamo completamente abbandonate ed è questo il motivo per cui siamo qui e chiediamo aiuto immediato perché siamo in piena emergenza, l'associazione non può assolutamente sopperire a tutte queste richieste di persone disperate e completamente prive di ogni forma di tutela e del proprio diritto alla salute. Grazie, grazie dottoressa. Certo, prego, se posso aggiungere. Assolutamente. Ecco, guardi, si tratta di pazienti che fino ad adesso sono state considerate in maniera inadeguata in quanto si imputava loro molto spesso analogizzando il quadro clinico all'obesità classica o a una forma particolare di obesità e si imputava loro una scarsa alimentazione e questo era anche motivo di frustrazione. in realtà la malattia consiste in un accumulo abnorme patologico di cellule di grasso nei glutei, nelle cosce, nelle gambe, nelle braccia, nelle manbracce e vengono sempre ristormiati i piedi e le mani e tanto per cominciare spesso viene confusa con il linfetema che invece interessa sempre piedi e mani che è una patologia completamente diversa perché è legata ad un alterato sviluppo congenito o intervenuto durante la vita, soprattutto nelle forme oncologiche, del sistema linfatico. in queste pazienze il sistema linfatico è normalmente sviluppato semmai viene in parte compromesso dall'ingombro meccanico di queste cellule che sono cellule di grasso anarchiche come le definiamo noi, ci stiamo studiando nel senso che non rispondono ai comuni meccanismi di autoregolazione del tessuto adiposo cui rispondono le stesse cellule della stessa persona nelle sedi sane, nelle sedi corporee sane. Se una paziente di queste diventa, tanto per farmi capire, pelle e ossa nel tronco ma rimane con le stesse adiposità distrettuali sulle glutei, cosce, gambe e sul braccio e l'abbraccio nonostante tutto. Noi abbiamo molte pazienti, giovani soprattutto, che hanno un indice di massa corporea assolutamente normale, compreso nei limiti della norma, che sfiorano l'anoressia per paura, mangiando di metter su volume nelle zone interessate. Questa è una cosa classica e purtroppo ancora oggi molti colleghi indirizzano queste malate partendo dal presupposto da cui sono partito nella mia descrizione, le indirizzano impropriamente alla chirurgia bariatrica determinando dei danni ancora maggiori, perché ovviamente è stato dimostrato ampiamente che la stessa chirurgia bariatrica, per i motivi che ho appena spiegato, non ha assolutamente nessun effetto su queste malate. La chirurgia bariatrica ha effetto su un'obesità classica, quindi su cellule che si accumulano a livello addominale, a livello del tronco e altre sedi, ma non in queste zone. Noi abbiamo scoperto nel 2020 come gruppo italiano il primo genere responsabile a livello mondiale, l'HCRC1, è responsabile se mutato della patologia, è una patologia familiare, si trova spesso la mamma, le zie, cugine e addirittura figure femminili della persona che ne affetta perché l'uomo è portatore sano, non ammala ma trasmette la malattia e viene trasmessa per via genetica. Il problema è che è una malattia che oltre all'ingombra meccanico, che nei casi più avanzati, perché parliamo di quattro stati, nel secondo, terzo, terzo avanzato, comporta gravi problemi di riduzione della capacità funzionale anche deambulatoria. Noi abbiamo dei pazienti per i quali abbiamo chiesto al compagno perché non sono in grado per esempio di infilarsi una scarpa, di provvedere la propria igiene personale negli stati clinici più avanzati, ma non ci si dovrebbe arrivare se vengono trattati in maniera precoce, sono pazienti che assolutamente debbono essere considerati in quanto tali affetti da una patologia che l'OMS ha riconosciuto nell'undicesima versione dell'International Classification of Disease pubblicata a gennaio di quest'anno come malattia con un suo codice appropriato. Noi su questa scia, già da tempo lavorandoci ovviamente da anni, abbiamo fatto richiesta anche alla Commissione Lea del Ministero della Salute per il riconoscimento della malattia tra i livelli essenziali di assistenza e stiamo seguendo ovviamente la pratica anche a quel livello. Sono malate che necessitano i trattamenti fisici, trattamenti chirurgici in alcuni casi e con tecniche chirurgiche particolari perché non tutte sono adeguate e pochissime le sanno fare in maniera che non ci siano recidive a distanza di tempo e necessitano di indumenti elastici per il contenimento della patologia, necessitano delle terapie antalgiche perché il dolore è presente in oltre l'80% delle malate e soprattutto nelle ore avanzate della giornata può raggiungere anche livelli abbastanza importanti tali da invalidare ancora di più la qualità di vita della malata stessa. Oltre a questo ovviamente ci sono tutte le ripercussioni immaginabili e soprattutto la frustrazione perché spesso indirizzate a trattamenti spesso privati, quindi a propri costi personali, impropri. Un drenaggio linfatico manuale in una paziente del genere se non si interviene dapprima sulle cellule praticamente non può assortire effetti perché il drenaggio linfatico drenano la linfa che ristagna e non le cellule che stanno lì in sovrannumero. Ci stiamo studiando moltissimo sull'argomento anche con dei gruppi di genetisti nel Trentino e di anatomopatologi dell'Università di Ancona che sono espertissimi nel studio sul valiposo e stanno andando fuori delle interessantissime indicazioni anche per un futuro approccio terapeutico anche farmacologico almeno per alcuni casi. Noi quello che vi chiediamo è un pochino di attenzione a malati anche di questo tipo per una patologia che ancora è negletta. Io ho presentato una relazione al congresso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità quest'anno a Torino, il 31 gennaio c'erano parecchi paesi collegati a livello internazionale e l'abbiamo definita una patologia rara, orfana addirittura ancora perché varie sono le sfaccettature, c'è spesso un'associazione con insulino resistenza, con ovaio policistico, con tirovedite di Hashimoto quindi con fenomeni autoimmunitari spessissimo, molto frequente in queste malate per cui i quadri clinici stessi possono essere variegati ma tutti riconducibili a quel comune denominatore della presenza di questi famigliamenti, pazienti, senza colpe. So se abbiamo capito bene quando. Direi assolutamente sì, è stato molto puntuale e la voglio ringraziare così come voglio ringraziare la dottoressa Giordano però chiedo ai colleghi presenti in aula o chi invece è collegato in call se qualcuno vuole intervenire per delle domande o per consigliere Piccirillo prego. Grazie, tanto grazie per l'occasione dell'audizione come per la precedente perché sono comunque sempre argomenti che vale la pena ascoltare per fare qualcosa di concreto per loro come regione quindi dà l'occasione a tutti e già anticiperei se potranno esserci le condizioni per fare una risoluzione di commissione o comunque una mozione addirittura in aula per riuscire a fare di concetto con la direzione generale e comunque i tecnici della giunta anche chiaramente con l'ufficio di presidenza quindi te Presidente, Tironi, Mammi e Monti per riuscire a dar concretezza ogni volta a queste audizioni a prescindere di chi le propone perché è noto spesso, faccio una piccola prendita tanto per dire che comunque le audizioni che candidalizziamo una più importante dell'altra a prescindere di chi le propone spesso però lasciano una richiesta, non magari un'aspettativa ma comunque una descrizione, manifestazione di un problema vissuto sulla propria pelle delle persone che poi anche come attori o la vivono o assistono persone tramite organizzazioni, associazioni eccetera però descrivendo che Presidente Regione potrebbe fare di più e questo è il classico un po' discorso generalizzato però per arrivare a riuscire anche a, così proprio per fare un intervento propositivo, anche a fare, riuscire a proporre, fare una proposta sui desiderati ripeto con mille valutazioni politiche, economiche e tecniche però che almeno su dieci punti, dieci aspetti che riguardano magari una fascia d'età piuttosto come è stato descritto finora praticamente piuttosto che l'uomo più che la donna che in base alle caratterizzazioni poi della problematica che viene descritta dare comunque almeno entro fine legislatura un miglioramento del servizio che viene già dato ma ripeto sempre nell'ottica di valorizzare chi come adesso ha appena finito di descrivere un servizio che comunque le persone che hanno determinate patologie come in questo caso alla fine poi si devono sobbarcare quasi in autonomia se non da soli in alcuni casi ma comunque come dicevo poco fa, chiudo così, come dicevo poco fa cioè che appunto si potrebbe fare di più magari anche con minimi costi o di risorse umane, economici e quindi appunto perché non farlo quindi comunque ringrazio ancora tutti. Poi se gli auditi hanno eventualmente per la commissione chiedo questo, se hanno magari da una scala di 1 a 10 la prima cosa più importante da lasciare a testimonianza della commissione e l'ufficio presidenza così da uno spunto concreto che ci lasciamo con partiamo da lì, cioè la prima cosa più importante domani mattina quale potrebbe essere da farsi? Sì, grazie. Grazie, dottoressa Giordano, prego. Sicuramente noi avremmo bisogno di una presa in carico super personalizzata, però per esempio dal momento che l'ipedema, poi magari come dirà forse meglio il dottor Michelini è presente nell'accordo Stato-Regioni per le linee di indirizzo per il linfedema e patologie correlate come patologia correlata del sistema linfatico, già un primo intervento di aiuto immediato potrebbe essere quello di estendere almeno i tutori elastocompressivi ai malati di lipedema cosa che adesso ci è preclusa, quindi già cominciare da una situazione del genere potrebbe essere così in attesa di vedere quali sono le altre terapie specifiche a cui possiamo avere accesso tramite ELEA, eccetera. Non so, dottore, volevo aggiungere qualcosa a lei in merito. Dovremmo fare l'audio. Chiedo scusa, dico a livello ministero che è arrivato e poi è stato firmato il conferenzo Stato-Regioni il 15 settembre domenica e ci sono le linee di indirizzo sui temi e patologie correlate. Ricordo benissimo che un'intera pagina, mi sembrava 27, sia dedicata proprio all'ipedema perché già da allora avevamo visto lungo sul discorso delle necessità di inserire anche questo tipo, fa pazienza anche di questo tipo e vi posso dire che alcune assicurazioni private su quella pagina di quel documento sono riuscite a rifondere i costi di interventi chirurgici mirati, ovviamente circostanziati e più che giustificati con risparmio dal punto di vista della paziente, dell'intero costo dell'intervento. Quindi qualcosa di ufficiale già c'è. Dottore, questo però è un intervento che si può fare a livello nazionale e ministeriale e non a livello regionale, giusto mi conferma? Allora, alcune regioni non lo possa, chiedo scusa ma devo dirlo. Sì? Per esempio la Campania, la Sicilia, il Lazio, la Puglia, la Calabria stessa hanno recepito in piena autonomia l'intero documento, lo hanno recepito con un'apposita delibera e questo ha fatto sì che almeno per esempio… Non la sento, io la sento a stare. Certo, come extra lea. Allora, io se non ci sono altri interventi da parte dei colleghi, non vedo né in chat, né mani alzate, io direi di far così. Magari dottor Michelini e dottoressa Giordano, se fate avere all'indirizzo email della nostra segreteria delle indicazioni un pochino più puntuali, come diceva il consigliere Piccirillo, una lista delle desiderate, prendendo anche esempio perché no, da chi ha già portato avanti delle attività in merito proprio alla tematica che stiamo discutendo questa mattina. Ce le mandate, la segreteria come sempre sarà prontissima a mandarle a tutti i nostri colleghi e poi vediamo quello che possiamo fare e quindi poi accoglieremo quelle che saranno le vostre osservazioni e vedremo che tipo di documento insieme possiamo stendere. Dottoressa Giordano voleva aggiungere qualcosa? Soltanto una piccola chiosa, innanzitutto ribadire il mio ringraziamento al consigliere Piccirillo, al presidente Monti per averci dato questa opportunità e se eventualmente oltre a questa documentazione che ci chiedete di fornire possiamo avere appoggio da parte della regione per poter organizzare magari degli eventi informativi dedicati sulla patologia con il vostro patrocinio o comunque eventi informativi e informativi per poter coinvolgere le più persone possibile dal medico di medicina generale al ginecologo, all'endocrinologo, noi avremo tanto bisogno di endocrinologi, non ne abbiamo quindi se riusciamo a creare insieme quella che si chiama una task force con l'aiuto dei medici esperti a cui ci rivolgiamo di cui oggi il dottor Michelini è il rappresentante proprio per cercare di sensibilizzare il più possibile perché noi abbiamo le bambine, le adolescenti, sono tutte persone che hanno bisogno di aiuto, non accettano la malattia, quindi hanno anche diverse problematiche psicologiche perché magari vedono la malattia nelle mamme, ci sono episodi di autolesionismo, ci sono episodi di chiusura totale, persone che non escono nemmeno di casa, queste persone hanno bisogno di tutta la vostra attenzione e non possiamo aspettare più, quindi se possiamo avere il vostro appoggio anche nell'organizzazione di eventi informativi e formativi sarebbe una situazione ideale, oltre a fornirci questo aiuto proprio nella pratica di estensione di prestazioni sanitarie ai nostri malati. Su questo tipo di attività mi sento di dire che il nostro appoggio assolutamente non mancherà. Grazie. Grazie a voi, ringraziandovi ancora per essere stati con noi questa mattina, ci lasciamo con l'impegno di raccogliere il materiale e poi ci risentiamo, sono sicura che sia il consigliere Piccinillo che il Presidente Monti raccoglieranno questo appello. Bene, grazie. Grazie, a presto, arrivederci, buon lavoro anche a voi. Arrivederci, grazie. Buon lavoro, arrivederci. E per invece i colleghi ricordo che dobbiamo cambiare il link per la prossima audizione che inizierà alle ore 11, tra 7 minuti. Grazie a tutti.